Shabbar Abbas, padre di Saman Abbas, 18enne, scomparsa da Novellara e non ancora ritrovata, è stato arrestato. L'arresto per Shabbar Abbas, padre di Saman, è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio ad orario pakistano per l'omicidio di sua figlia. È stato trovato nella zona del Punjab ed ora si trova in arresto provvisorio ai fini di estradizione poi verso l'Italia. Nel momento in cui è stato fermato e tratto in arresto Shabbar non ha opposto nessuna resistenza, ma era solo. La moglie Nazia rimane in questo momento ancora latitante. Shabbar arriverà ad Islamabad dove gli verrà notificata la Red Notice dall'Interpol. Questo accadrà domani a seguito ad un'udienza per la notifica stessa. Quando avrò altri aggiornamenti, ragazzi, ve li porterò. Attendiamo anche l'intercettazione della madre di Saman con il consecutivo arresto. Potrei dire finalmente una buona notizia. Vi chiedo come sempre di scrivermi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E per non perdervi nessun nuovo video vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. Ci vediamo con un nuovo video. Grazie.